Eccoci tornati ad un nuovo appuntamento di cronache e commenti. Ci troviamo all'interno del Palazzo della Regione Toscana per andare a raccogliere i pareri, le impressioni di questa ultima seduta del Consiglio regionale di giugno e allora come ogni settimana vogliamo iniziare dalla nostra sigla con gli argomenti principali che sono stati toccati durante l'ultimo parlamentino regionale. Si sono tenute in aula due informative riguardante il piano regionale delle cave. La prima ha riguardato la variante al piano regionale in applicazione della sentenza TAR del 2022 per ulteriore attività amministrativa ed approfondimenti istruttori sui giacimenti potenziali nel comune di Castagneto Carducci denominati rispettivamente il Romitorio e Valle delle Dispenze a seguito della sentenza con la quale il TAR della Toscana ha accolto il ricorso proposto da MDM Marmi di Maremma contro la parte del piano che qualifica le due aree in questione quali giacimenti potenziali anziché come semplicemente giacimenti. La seconda è relativa alla variante non sostanziale al piano regionale cave per l'aggiornamento degli obiettivi di produzione sostenibile. Quanto alle due aree nel comune di Castagneto Carducci ha spiegato Baccelli il TAR ha censurato la scelta di piano innanzitutto per difetto istruttorio e per aver rinviato la decisione in merito all'individuazione o meno dei relativi giacimenti al comune di Castagneto Carducci. Riguardo alla seconda informativa relativa alla variante non sostanziale al piano regionale cave per l'aggiornamento degli obiettivi di produzione sostenibile, l'assessore Baccelli ha riferito all'aula che alcuni comuni e alcune industrie estrattive hanno manifestato la necessità di aumentare le potenzialità estrattive e hanno chiesto di rivedere il dimensionamento del piano regionale innalzando gli obiettivi di produzione sostenibile. In pratica la variante individuerà incrementi del fabbisogno contenuti nel 5% del dimensionamento complessivo del piano. Parliamo di un massimo di 8.963.000 m3 nell'arco di 20 anni. Relativamente all'informativa per la variante del aumento del 5% della possibilità di escavazione la nostra posizione è una posizione favorevole perché si tratta di una proposta che non è una variante al piano cave ma è una variante attuativa di un dispositivo del piano cave. Piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività che è appunto impattante sicuramente ma anche necessaria. Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con le associazioni, con le categorie prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5% che ripeto non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale. Poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo perché per quello che ci risulta l'esigenza di un aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato alla esigenza dei materiali industriali, quindi le IAE, gli EGS, cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche lavori pubblici legati al PNRR e che sono stati molto richiesti anche dalla ripresa dell'edilizia che era legata ai bonus che purtroppo ora sono invece stati accantonati. Noi abbiamo fatto presente in aula che il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio, soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane negli ultimi 30 anni è aumentato di smisura praticamente corrispondente al materiale estratto nei 2000 anni precedenti grazie al progresso tecnologico che vede anche impiegato una netta diminuzione di personale tant'è che oggi ammontano circa 600 addetti sulle Alpi Apuane. Questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato nei dintorni di dove viene estratto, quindi a nostro avviso non è certo a beneficio delle comunità locali. Innanzitutto dovremmo anche capire come la Giunta intende esplicare questa estrazione sostenibile perché l'estrazione sostenibile a nostro avviso non esiste soprattutto nel materiale lapideo che evidentemente non ricresce, quindi c'è una contraddizione in termini che offusca e rende poco chiaro tutto il piano regionale di estrazione. Da parte nostra intanto abbiamo rilevato, anche perché lo abbiamo appreso solo ieri dalla discussione operata da parte dell'assessore Baccelli negli atti non vi era, che nel frattempo è intervenuta anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Tar respingendo il ricorso della regione toscana e quindi confermando che le competenze per quanto riguarda la definizione degli atti a giacimenti o giacimenti potenziali è alla regione toscana e non può essere rilasciata ai comuni e questo è un elemento che per noi è importante perché apre la possibilità non tanto all'utilizzo dello strumento della variante ma probabilmente alla necessità di rivedere ampiamente in modo generale il piano cave perché probabilmente il tema che ha riguardato questa specificità delle due situazioni di Livorno è molto probabilmente largamente più ampia. In secondo luogo per quanto riguarda l'incremento del 5% dell'attività produttiva, fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare situazioni limitate e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato in quali limiti o se tale non fosse, anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato e cioè di rivedere il piano regionale delle cabere. Durante l'ultimo consiglio è stato toccato anche il tema del trasporto marittimo. Con l'estate e i maggiori trasporti verso le isole, l'assessore regionale Baccelli ha illustrato i vari passaggi in merito alla predisposizione del bando per l'affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago toscano, iniziato nel 2022. Il contratto attuale, infatti, per il trasporto marittimo è attivo con Toremar, ma terminerà il 31 dicembre 2024. Per l'assessore si presenta una situazione molto disomogenea tra le varie linee e per la regione toscana c'è la necessità di garantire la migliore offerta e il mantenimento dei servizi, oltre che la massima tutela dei lavoratori interessati. Ci sono da definire termini e condizioni di un bando che, come detto, però dovrà garantire migliori servizi di trasporto, ma che anche soddisfi le reali esigenze di mobilità degli utenti. Acceso il dibattito su questo tema in aula. Abbiamo chiesto la comunicazione in aula perché volevamo ancora una volta maggiore chiarezza da parte dell'assessore della Giunta su questo bando che, a nostro avviso, è gestito malissimo. Siamo fortemente preoccupati innanzitutto per la questione dei lavoratori, dei marittimi, che chiaramente in un eventuale cambio di gestore si troverebbero probabilmente anche in una sorta di esubero di personale e non basta solo una clausola sociale che possa garantire i diritti di questi lavoratori, delle loro famiglie. Questo è sicuramente uno dei temi principali su cui serve fare maggiore chiarezza e serve anche tanta determinazione perché noi siamo anche preoccupati del fatto che ci possa essere anche una agitazione da punto di vista dei lavoratori. Non dico di arrivare ad uno sciopero ma sicuramente non c'è serenità nel mondo dei lavoratori marittimi. Il secondo punto è che noi lo abbiamo sempre detto in questi anni non è pensabile che si possa pensare ad uno spacchettamento delle tratte e delle linee e serve invece un lotto unico che garantisca anche il finanziamento per la continuità territoriale di tutte le linee. Non si può confondere l'aspetto fortemente di principio che riguarda appunto il finanziamento che la Regione dà per la continuità territoriale cioè per permettere pari opportunità o perlomeno di avvicinarci a pari opportunità degli abitanti delle isole dell'arcipelato Toscana rispetto a quelli della terraferma e confonderlo con il principio commerciale dicendo che se una tratta come quella di Piombino-Portoferraio si autosostiene commercialmente possiamo non finanziare quella linea. È un concetto che noi non possiamo accettare. L'assessore Baccelli ha presentato una comunicazione molto stringata nella quale ha ricostruito i passaggi che la Giunta ha fatto in questi mesi con tutta una serie di attori ma non ha sciolto i nodi che invece noi abbiamo voluto porre e che stiamo cercando di condensare all'interno di un documento votato all'unanimità dal Consiglio ovvero sia alcune caratteristiche del bando. Il primo è il lotto unico perché non possiamo accettare l'idea di una frammentazione che scarichi sulle tratte più deboli i costi e rischi di tagliare i trasporti soprattutto per le isole minori Capraia e il Giglio in particolare ma anche per alcune corse dell'isola d'Elba. Poi c'è un problema di tariffe perché il lotto unico evidentemente può consentire di sostrare sulla parte buona del trasporto marittimo cioè quella per esempio fa riferimento al turismo per consentire anche attraverso un contributo della regione toscana di ammortizzare le tariffe a favore dei residenti in modo particolare i pendolari e gli studenti. E poi abbiamo chiesto alcune garanzie di natura ambientale come per esempio l'adeguamento della flotta un ringiovanimento della flotta anche lavorando magari sulla durata del contratto di affidamento e per esempio è richiesta esplicita di Fratelli d'Italia la realizzazione come previsto anche nei piani di sviluppo dei singoli porti, di sistemi di approvvigionamento dell'energia elettrica delle navi che sostano durante la notte che possa essere effettuato direttamente appunto attraverso il sistema elettrico nazionale e non tenendo motori accesi tutta la notte sia per ragioni ambientali sia in alcuni porti anche per ragioni naturalmente di basso impatto acustico nei confronti dei residenti e dei turisti. Io in particolar modo mi sono soffermato sul fenomeno del cold air running che è una cosa veramente preoccupante ovvero è quel fenomeno per cui i traghetti e le navi quando ormeggiano in porto per tutta la notte non potendo fare a meno dell'alimentazione elettrica rimangono con i motori accesi chiaramente creando un inquinamento devastante da un punto di vista sia di fumi ma anche da un punto di vista acustico che diventa drammatico per coloro che vivono e lavorano nelle prossimità della banchina per far questo bisogna elettrificare le banchine e chiedere alle flotte che siano adeguate a poter appunto agganciarsi alle banche elettrificate. Su questo noi vogliamo che il prossimo gestore del cabotaggio Piombino Isola d'Elba comunque sia inserito all'interno di questo meccanismo per cui navi, traghetti che siano in grado di allacciarsi la letta elettrica da terra anziché trascorrere tutte le notti dell'anno in banchina a portoferraio con i motori accesi creando una situazione drammatica per i cittadini che lì lavorano e vivono. È tutto da Cronache e Commenti l'appuntamento è come sempre la prossima settimana per andare a scoprire nuovi argomenti che vengono dibattuti e toccati dal Consiglio regionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti.